Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare Dan, un giocatore che pur ancora giovane ha avuto un bel percorso già tra i calcioprofessionisti perché ha iniziato nel 2018-2019, per cui ha fatto la sua strada. È ovviamente un giocatore che ha voluto fortemente la maglietta del Bologna. Siamo contenti perché abbiamo bisogno di gente molto motivata. È stata una trattativa, come sapete, ma non è passato un po' di tempo, non semplice con il Basilea, molto complessa, lunga e alla fine siamo riusciti a trovare un accordo. È stata importante anche la volontà che ha avuto lui di venire a Bologna, che ci aveva anche manifestato in una call, che avevamo fatto una video call poco prima di chiudere il contratto. Quindi siamo molto contenti di averlo con noi e sono convinto che ci darà una grossa mano nella stagione che sta per cominciare. Quindi ve lo lascio per le domande. Prego la presentazione e lui ci aiuterà con la traduzione dall'inglese. Benvenuto Massimo Vitali, resto del Carlino. Ti sei già presentato, che giocatore sei? Hai giocato più spesso a destra o a sinistra in carriera? E puoi fare anche la punta centrale? Mi carriera è giocatore, giocatore a destra o a destra o a destra. Ma io anche posso giocare di giocatore. Penso che sono un giocatore che può giocare molte posizioni nell'attacco. E sarò pronto per giocare ogni posizione che il coach mi chiede di giocare. Sì, per tutta la mia carriera diciamo che ho giocato esterno d'attacco, sia a sinistra che a destra. Ma ho fatto anche il centro avanti. Sono un giocatore che può fare quasi tutti i ruoli in avanti, ma metto a disposizione del mister dove vuole che giochi io gioco. Ciao Dan, Luca Pinkerle, TV Rete 7, benvenuto a Bologna. Perché la scelta di Bologna e se nella scelta di venire in Serie A c'è stata anche di mezzo l'eliminazione dalle coppe con il Basilea? E se ripresentarti in uno dei top 5 campionati europei dopo l'esperienza a Nizza per te può essere un ulteriore gradino superiore? Grazie. 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 No, per me l'eliminazione di Basile non è la mia scelta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi sono stati, a tutti. E'altro dei due clienti, per farlo. Ma sono stati rispondendo da Pestscore. Per me non ho dubbi, credo che sia il migliore progetto per me e ora sono davvero felice di essere qui e non posso aspettare per cominciare la Coppa del Basilea. Ho fatto vedere il progetto, è stato un progetto importante, il club gioca in una lega molto importante come la Serie A e quando mi hanno fatto vedere il progetto che avevano per me come giocatore non ho avuto dubbi nell'accettare l'offerta del club Rosso Blu. Sì, ciao, Giorgio Burredo, quello dello Sport Stadio. A proposito del ruolo, che cosa ti ha chiesto Motta in questi primi allenamenti e se già puoi essere titolare per l'esordio? Non, quello che mi ha chiesto è di giocare come lo sape, sape come lo sape, sape che avevo qualità ma vuole che voglio lavorare per la squadra e quando mi arrivo qui mi ha detto che sape che avevo qualità ma vuole che voglio lavorare e migliorare e questo è proprio quello che mi ha chiesto. Io ho chiesto di migliorare e lavorare, mi sono a disposizione del coach per il Monday e è lui che farà la decisione. Le farà l'ultimo dopo. Ciao, Gazzetta dello Sport, ciao, piacere. Chi sono e chi sono stati o chi sono attualmente i giocatori esempio per come giochi tu da ala? Quali giocatori ti piacciono? Quali giocatori hai guardato? Hai cercato di studiare? Per me, quando ero figliato, il giocatore che ho guardato molto e il mio idolo è Neymar. Quando ero figliato, mi piace vedere il gioco di Sadio Mane perché penso che sia un giocatore polivalente e può giocare ogni posizione in attacca. Si attacca bene e è diverso anche con la squadra e penso che sono questi due giocatori che mi piace il gioco e mi piace molto di qualità per il mio gioco. Da piccolo il mio idolo era Neymar ma crescendo ho iniziato a guardare Mane che è un giocatore che a me piace molto perché è polivalente ed utile, sa fare molti ruoli in attacco come piace fare a me. Attacca bene ed è un giocatore che a me piace prendere spunto e mi piace guardare. Grazie. Grazie a tutti. Sì, quando ero figliato un po' di bologna con Michel Bichert ho parlato a lui. e mi sento come, magari che io vorrò e mi ha detto che per lui era una buona chiusura di venire. Quando ho sapevo che io vorrei, ho sentito una messaggio, ero felice, e io sono anche felice di volerlo in questa squadra. e sì, la mia spesa è la mia spesa, mi piace fare dribblinge, uno contro uno, e sì, sono un gioco che può essere differente da parte, e quello che posso migliorare è, ovviamente, posso migliorare molte cose, ma posso migliorare la mia statistica, magari, e essere più la mia spesa è molto lunga, e sì, credo che posso migliorare molte cose, ma dire una cosa che posso migliorare è difficile, ma come ho detto, la statistica, e credo che è la maggior cosa che posso migliorare, più gol o assiste, perché... fare l'uno contro uno, che è veloce, che è rapido, a cui piace saltare l'uomo, se vi devo dire una cosa su cui devo lavorare, sono le statistiche, quindi gol, assist, è difficile prendere proprio una cosa su cui devo migliorare, però comunque, se devo scegliere, è quella cosa lì. Di nuovo qui, hai giocato anche un paio d'anni con un italiano, Riccardo Calafiori, a Basilea, se ti ha detto qualcosa sul campionato, e se l'hai sentito dopo che sei venuto qui. Riccardo Calafiori è stato un buon amore di me, a Basilea, e, ovviamente, quando è italiano, ha giocato già in Serie A, ho chiesto alcune domande, ma ha rispondito come un amico, e mi ha dato alcune cose che ho bisogno di sapere per la Serie A. Sì, ho giocato con Calafiori, è un mio amico, ovviamente, quando ho saputo dell'interesse del Bologna, e quindi dell'opportunità di poter giocare in Serie A, lui ha già giocato in Serie A, io ho chiesto un parere, mi ha detto cose molto positive del campionato, e mi ha dato anche dei consigli su come rendere al massimo. Ti volevo chiedere, tu hai fatto in tempo ad allenarti, forse, gli ultimi allenamenti con Arnautovic e Scouten, che cosa vuol dire arrivare in una squadra che sta vivendo col mercato aperto una situazione di rivoluzione, direi, insomma, di tanti giocatori, tanti sono usciti, tanti dovranno arrivare, qualcuno è arrivato, altri arriveranno. Cosa vuol dire entrare in questo momento in una squadra che, non so, è un cantiere aperto, non si dice. No, io credo che questa situazione è il fútbol. In ogni club ci sono i giocatori che vengono e i giocatori che vengono e i giocatori del club. E io credo che, per me, è parte del fútbol. E io mi sono solo concentrato a me stesso e a quello che posso fare per aiutare la squadra. e dopo, sì, questa cosa non è la squadra che ho bisogno di pensare. Io credo che i giocatori sono concentrati sul training e sono pronti per il primo gioco. E io credo che tutti i giocatori sono in un stesso mindset. È il calcio, in tutti gli altri club, in tanti altri club è così. I giocatori vanno, i giocatori vengono, fa parte del calcio e dello sport. Io sono focalizzato su me stesso e su aiutare la squadra, come sono anche gli altri ragazzi che sono focalizzati sull'inizio della stagione e sono pronti per iniziare questo nuovo campionato. Tu, io sei anche più in forma di tutti, perché hai già giocato quattro partite ufficiali. In Bologna, invece, una sola. Sì, in Svizzera la stagione è iniziata prima, è iniziata presto. È ovviamente un vantaggio, perché mi sento pronto a livello fisico per iniziare la stagione già lunedì. Allora, Sandro Mossini, Corriere di Bologna e Nettuno Bologna 1. I ask you if it's true you had some interest on Premier League also, if you know that. And on Monday it's Teo Hernandez, so it's Calabria. From your side. Yes, of course, it's the part of Mercato, I received some offer, but for me the most important thing now, I'm in Bologna and I'm happy to be in Bologna and for the question for the defender, me I'm ready for play against these both. Look, the question is if the coach will be in the starting event or on the bench, but I'm ready for play against these two. Sì, è vero, ho ricevuto altre offerte, però adesso sono qui a Bologna, l'importante per me è far bene a Bologna. E per quanto riguarda Teo Hernandez o Calabria, sono pronto a giocare contro chiunque, ovviamente sta al mister scegliere, se gioco dall'inizio o se subentro. Ciao, Filippo Monetti, Canal 88. Una domanda, avete tirato in mezzo a Teo Hernandez, c'è qualche giocatore della Serie A che non vedi l'ora di affrontare? No, of course, Teo Hernandez è un grande giocatore, e credo che ha mostrato la qualità in Europa. ma per me è un grande giocatore della Serie A e per me ho aspettato a giocare con Bologna in Serie A e non contro un giocatore o contro un giocatore in particolare. non ho detto che ha giocato, abbiamo parlato soltanto del club. Grazie